L'alba è bellissima come immagine perché siamo in un periodo come è accaduto a noi italiani in parecchie altre occasioni, per esempio nel dopoguerra in un periodo in cui dobbiamo ricostruire il nostro paese, le nostre vite, la nostra società e dobbiamo farlo in termini economici ma dobbiamo farlo forse soprattutto in termini valoriali e riscoprendo il senso della solidarietà dello stare insieme. E direi che tutti i premiati di stasera sono persone, più che individui come è stato giustamente detto, molto impegnate in questo senso. Vi ringrazio ancora.